Assessore Buffoni, il Carnevale è diffuso in tutti i quartieri della città quest'anno? Sì, quest'anno come l'amministrazione comunale si è impegnata con il Natale nei quartieri, anche il Carnevale nei quartieri. Quindi tutti i sei quartieri di Padova sono coinvolti attraverso attività associative con iniziative che riguardano sia i bambini ma anche e soprattutto gli anziani. In un momento di festa come questo dove le attività non saranno solo più incentrate nel centro storico di Padova ma anzi portiamo le mascherine e un po' di allegria in tutti i quartieri di Padova. Delle iniziative rese possibili anche grazie all'aiuto e alla collaborazione delle associazioni? Assolutamente, l'importanza delle associazioni è fondamentale perché è il tessuto sociale di Padova. e proprio le associazioni con iniziative rivolte agli anziani e dai bambini, piccole rappresentazioni teatrali, laboratori, trucca bimbi, anche un modo per poter lasciare i ragazzi, penso alle tante famiglie che magari lavorano e non possono seguire i bambini in questi giorni. Ecco, ci sono le associazioni, le nostre associazioni di Padova che danno questi momenti di gioia in questi giorni di carnevale.